Numerosissimi turisti e visitatori che nella giornata di Pasqua e in quella del lunedì in Albis ieri hanno approfittato dei musei aperti per trascorrere una giornata all'insegna della cultura e dell'arte. Ieri, giorno di Pasquetta, a lunghe file si sono registrate alla biglietteria della Certosa di San Lorenzo a Padula, anche per il fatto che il biglietto consentiva visite guidate a tutto il sistema museale della cittadina del Vallo di Diano. Oltre alla splendida Certosa e al Museo archeologico della Lucania occidentale, si potevano visitare con lo stesso biglietto il Museo Civico Multimediale, aperto dalle 11.30 alle 18, e la Casa Museo Giopetrosino, dalle 10 alle 18, raggiungibili grazie al servizio navetta. Nella casa natia del poliziotto italo-americano, pioniere della lotta alla mafia, sull'asse New York-Palermo, una guida d'eccezione, il pronipote di Gio Petrosino, Nino Melito Petrosino, che come ormai fa da tantissimi anni, ha raccontato la storia dello zio che trovò la morte proprio per mano della mafia a Palermo nel 1909, ucciso da quattro colpi di pistola. Doverosamente siamo sempre qua, tutti i giorni dell'anno, noi non abbiamo chiusure, io non guardo nemmeno gli orari, penso solo quello che mi diceva mia madre e la sua accoglienza, la sua grande disponibilità verso tutti in tutte le ore, mi sforzo di fare pure io la stessa cosa. Certo, mi trascino il personale della Casa Museo Appresso, ma questa è la nostra linea di famiglia, questi purtroppo sono gli scherzi del sangue e del luogo di nascita, quindi veramente con piacere siamo sempre disponibili verso tutti in tutti gli orari. Il pronipote di Gio Petrosino accoglierà turisti e visitatori nella casa natia del poliziotto padulese diventato un eroe ancora nelle giornate di giovedì 25 e domenica 28 aprile, mercoledì 1 maggio e domenica 5 maggio. Ci sarà anche il servizio navetta dalla Certosa di San Lorenzo con appuntamento in biglietteria alle 11.30 e i musei resteranno aperti dalle 10 alle 19. La Certosa di San Lorenzo sarà aperta con orario continuato dalle 9 alle 19. di San Lorenzo.